Ciao traite, siete su ScarpintheBull, video di analisi tecnica, 1000 like per il prossimo video Che succede a Bitcoin? Tutti lo davano per 100.000, 1.000.000 addirittura, Catty Woods torna a dire 1.000.000, pazzesco Ma eravamo in Viagra, quindi andate a studiare la tecnica del Viagra e vedrete che questa è una bellissima conformazione short Siamo arrivati alla 200, vediamo che succede con l'EMA, anzi la 200, la 200 di 3 che farà l'EMA 60 Andiamo a studiare tutto ma dopo la sigla Quindi 1000 like per il prossimo video, che succede qua? Anzi c'è mia figlia che vi vuole salutare Ciao Bull Family L'ho dovuto registrare prima perché sennò si vergogna, però è un ciao Bull Family Ciao Bull Family Si capisce poco ma ci teneva Allora, che succede qua? Allora l'ultimo video che ho fatto è Bull Trap Vi ho spiegato un attimino che da 1 a 10 credevo 0 in questo rialzo E c'è stato ribasso, cosa vuol dire? Che andiamo sui minimi? No, ancora no Noi andiamo comunque per conformazioni, ok? Sempre, seguiamo sempre le conformazioni Poi dopo a me piace dire la mia sulla geopolitica, spiegare un attimino quello che è la mia visuale per il futuro Ma noi ci muoviamo sempre e solo con le conformazioni Quindi qua avevamo il tecnico del Viagra, vi ho detto di andare a vedere che cos'è il tecnico del Viagra C'è il video gratis senza pubblicità E M10 che comanda, rottura M10 e accelerazione, ok? Qua avevamo la 223 nelle vicinanze quindi avrebbe potuto fare da supporto Ma essendoci comunque l'EMA 60 è altamente probabile che ci andremo per due motivi Uno perché eravamo in Viagra, è un Viagra lunghissimo e quindi ci sta che dopo insomma faccia un bel ritracciamento Ma abbiamo saltato pari pari lo Shimano, ok? Andate a vedere la tecnica dello Shimano Non abbiamo fatto nessun rimbalzo all'interno dello Shimano È praticamente andato dritto dritto e poi uscito dallo Shimano, ok? Questo è troppo dritto per dritto, per questo noi non entriamo col troppo dritto per dritto La conformazione era qua sotto di rottura dell'EMA 60 Poi dopo il target massimale di speranza poteva essere la 223, è addirittura andato a superare Ma adesso quindi è probabile che vada addirittura a testare l'EMA 60 Che fra l'altro, attenzione perché per chi comunque è bullish, andare a testare l'EMA 60 è comunque positivo, ok? Quindi possiamo scendere di quant'è questo Di quant'è, un 5% ancora E andarlo a testare, poi l'ideale sarebbe cercare una base, ok? Quindi delle conformazioni con tante candeline per poi dopo esplodere, ok? È interessante se lo fa sopra con l'EMA principale sotto, ok? Quindi andarle a rompere, quindi se noi andassimo piano piano, andare a testare l'EMA 60 Ok? Poi l'EMA 223, quindi rimane un po' nello Shimano, va a testare, scende giù e mi va a fare Che ne so, un terzo tocco dell'EMA 200, allora diventa interessante, ok? Però sapete cosa ne pensa la geopolitica? Se non lo sapete adesso ve lo spiego Cancelliamo questa roba qua Allora, geopolitica, cosa succede? Allora, vi faccio però prima questo esempio qua Anzi, prendiamo prima delle cose positive Allora, il covid sembra che, insomma, quest'anno sicuramente Adesso mi tocco, ma in Europa non andremo in lockdown Non ci sono stati problemi, quindi covid ce l'abbiamo da parte Dopo andiamo a vedere Moderna Per capire il discorso che, insomma, potrebbe essere un ottimo short Aspettando sempre una conformazione Quindi covid, questo almeno l'abbiamo risolto Abbiamo risolto qualcosa con la guerra? Direi proprio di no Anzi, le cose sembrano addirittura che si stiano peggiorando Fra l'altro vi dico questa notizia qua perché ne stiamo parlando in pochi Ma North Stream, vi ricordate che l'ha tentato a North Stream di istruzione? Chi poteva essere? Gli americani Allora, non c'è nulla ancora di concreto, ma sembra che l'evidenza stia venendo fuori Che siano stati gli americani Ovviamente si capiva, insomma, che fossero stati loro Chi ha l'interesse nel sabotare North Stream E distruggere, diciamo, il contatto fra l'Europa e la Russia Ovviamente gli americani, ok? Quindi sembra che stia uscendo questo Ma è grave questa cosa qua, è grave, grave Perché si intromette l'USA, gli Stati Uniti Fra l'altro sta succedendo un'altra cosa incredibilmente interessante Ma molto pericolosa Allora, gli americani sono bravissimi a fare la guerra altrove Bravissimi, sono fantastici Ovviamente a loro non crea problemi se fanno le guerre altrove Poi le lobby della guerra sono anche contenti perché gli girano tanti soldi Ma avere la guerra in casa per loro è un grosso problema Ovviamente gli americani hanno paura di questo La penserebbero molto diversamente nel dover fare la guerra se ce l'avessero in casa E quindi con questo vi ho spiegato l'ultima volta che una nave russa Invece di andare in Sudafrica ha curvato per andare verso l'America Per fargli capire che un attimino anche loro si possono muovere Non sono solo gli americani che si possono muovere E poi queste cose dei palloni, dei palloni cinesi, spia Questa è una tattica molto interessante in realtà Per far capire gli americani che non siete gli unici che si possono muovere Che possono andare da Taiwan Che si possono muovere per andare a fare la guerra con la Russia eccetera Ma anche gli altri possono andare da loro E questa cosa del pallone non dovete sottovalutarlo Questo è proprio per fare capire che la guerra si può spostare rapidamente lì Per vedere se un attimino abbassino la cresta Però questo fa sì che con uno come Biden ci possano essere problemi Però la guerra si sta intensificando Quindi questo non l'abbiamo risolto, anzi sta peggiorando In più vi voglio fare un esempio per far capire la geopolitica E per fare capire perché io da 1 a 10 credo 0 Questo l'ho detto la settimana scorsa Ricordatevi di iscrivervi al canale Bulltrap Perché appunto fondamentali qua ragazzi non ci sono E vi voglio fare un esempio perché l'economia siamo noi Quindi se qualcuno aveva una busta paga da 1200 euro Con un mutuo da Allora prendo un esempio di un amico che ci hanno sentiti Lui aveva un mutuo da 580 euro Quindi quando ha comprato casa ha preso un mutuo tasso fisso Perché la banca hanno detto quando i tassi erano bassi Vi dicevano di prendere un mutuo tasso fisso Ovviamente era meglio Un tasso fisso variabile Perché con i tassi bassi insomma non poteva addirittura Vicino allo 0 erano E da questi 580 euro a lui sono diventati 900 Quindi 1200 Vediamo se riesco a disegnare Quindi prendeva 1200 euro E spendeva 580 di mutuo Adesso sapete quanto spende? 900 Sono 320 euro in più 55% questo caso di aumento 55% lui ovviamente quando ha comprato casa Il mutuo non aveva calcolato di spendere 900 Prendendo 1200 Ma aveva calcolato di spendere 580 Dove sono andate a finire questi soldi? Sono andate a finire nelle banche E per questo che vediamo Piazza Affari to the moon Guardate questo è l'indice Piazza Affari to the moon Perché i bancari contano tanto E guardate il grafico di Unicredit To the moon Perché sta incassando questi soldi Ok? Ma Questo mio amico Come tutti gli altri in queste condizioni qua Questi 320 euro in più Gli hanno dato più potere d'acquisto O meno potere d'acquisto? Ovviamente molto meno Quindi lui Questa differenza poteva essere la rata di una macchina Poteva essere una nuova lavatrice La rata Poteva essere tante cose Invece no Quindi ha molto meno potere d'acquisto Anche perché la sua busta paga è cresciuto di 0% Più 0% Ok? Più 0% E quindi capite che qua l'economia Non può che andare in default Cioè non può che scendere Per questo che Hanno alzato i tassi Per far sì che si raffreddasse l'economia Per raffreddarlo bisogna togliere i soldi Come si fa? Si fa così Ok? Ma le banche Attenzione Adesso stanno festeggiando questi soldi in più Ma ad un certo punto ci saranno persone che o non riusciranno più a pagare il mutuo E quindi ci saranno insolvenze Quindi le banche si troveranno dei mutui con le persone che non possono pagare Quindi avranno poco da festeggiare Quindi nel Q2 magari il Q3 nel Q4 inizieremo a vedere questo Ma soprattutto il ragionamento è Oggi Oggi Una persona che guadagna Mettiamo 1200 euro Potrà mai pensare di comprare una casa oggi Con i tassi così? Non ha nessun senso Fra l'altro i prezzi delle case non sono ancora collate Quindi ti trovi con i prezzi delle case Un prezzo alto E dei tassi di interesse altissimi Cioè la stessa casa che tu potevi comprarti l'anno scorso Adesso dovrai spendere 900 euro al mese Non 580 euro Quindi in questo momento qua non ha nessun senso comprare casa Quindi si bloccherà il sistema del costruzione di casa Un costruttore Cioè pensare di comprare Di costruire una casa oggi A chi lo va a vendere? Chi è che lo va a comprare con dei tassi così alti? Che fra l'altro hanno detto che i tassi Se l'economia non si raffredda Non solo rimarranno alti così Ma continueranno ad alzarli Quindi sarà sempre peggio Ok? Fino a quando appunto non crolla Quindi fate attenzione Ok? Poi dopo che succederà? Quindi le banche Dopo chiederanno C'erano meno persone che vorranno a comprare casa Meno persone che chiederanno i mutui E quindi dopo loro avranno meno utili Quando inizieranno a vedere questi dati Nei prossimi trimestrali Che può essere il Q2, il Q3 o il Q4 Da lì questi titoli qua inizieranno a crollare Ok? E quindi crolleranno anche gli indici Quindi adesso stanno facendo i fenomeni Perché stanno intascando questi soldi E stanno, avete visto Stanno uscendo fuori con dei dati ottimi Ma poi finirà questa cosa qua Quindi il futuro Io da 1 a 10 ci credo 0 che possa salire Ok? Poi ovviamente noi tanto ci muoviamo Conformazione per conformazione Ce ne sbattiamo diciamo di tutto il resto Però è giusto capire in che contesto siamo Ok? Per questo che Per spiegarvi meglio Un po' a discorso da geopolitica Detto questo Bitcoin Andiamo a vedere anche Bullish ovviamente Nell'immediato deve tornare sopra L'EMA 10 Per tornare un attimino Di speranza di poter tornare sui massimi Ma il primo step è tornare sopra la 223 Ok? Altrimenti effettivamente andremo a assaggiare L'EMA 60 Andiamo a vedere però Il weekly Il weekly Il massimo che potremmo arrivare Era questo 26.000 Ma era tanta roba Perché siamo andati su Praticamente dritto per dritto Adesso Ottimo Il testo è la 223 Vediamo se va a testare Appunto la 10 Che poi è quello che comanda Per andare a fare la seconda rampa Questa è la versione Bullish Ovviamente Cosa non deve fare Già Non deve chiudere sotto la 223 Ma soprattutto Non deve chiudere sotto l'EMA 10 Ok? L'EMA 10 Troviamo a 20.060 E nel mensile Avete visto L'EMA 10 Perfezione Ok? Toccato l'EMA 10 Adesso sta tornando giù Ehm Invece Al Nasdaq Come avete visto Il mostro è ancora qua Pronto Il livello del mostro è lì L'EMA 10 Quindi eravamo in Viagra Aveva già testato due volte Abbiamo fatto chiusura sopra Adesso abbiamo l'EMA 200 Vediamo se regge Ma comunque sta facendo questa cosa qua L'economia Comunque Il problema è proprio quello Che con i tassi così alti Noi Che dobbiamo spendere Siamo meno incentivati Perché abbiamo meno potere di acquisto Ok? Alzare i tassi Serve a questo Darci meno potere di acquisto Non comprare le cose Le persone non comprando le cose Fa sì che le industrie Per poter vendere Devano abbassare i prezzi Ok? E Questo è Ne abbiamo detto questo Andiamo a vedere Che succede Con gli altri Quindi questo è il daily Andiamo a vedere Ethereum Molto più debole Siamo già sulla 60 Andiamo già sulla 60 Fra l'altro qua si parla di Nuove regolamentazioni Che andranno a incidere tantissimo Su Ethereum Comunque Noi come sempre Andiamo per conformazione Qua avevamo la chiusura sotto l'EMA 203 Assolutamente no Siamo andati già addirittura Sulla l'EMA 60 Quindi siamo più deboli Rispetto a Bitcoin Che siamo Bitcoin è appena sotto la 203 Andiamo a vedere gli altri BNB Che era quello più forte Che il BUD Non l'aveva chiuso sotto il BUD Ma era andato ad accelerare Ieri ha fatto questa Due giorni fa Questa grossa accelerazione Quindi poi ha recuperato E è tornato giù Fra l'altro l'incrocio In atto Ah L'altra cosa Aveva di Bitcoin Si parlava già di Incrocio Golden Cross Ma siamo distanti ragazzi Troppo distanti Fra l'altro Golden Cross L'incrocio Che noi la chiamiamo EMA Incrocio 60 223 O 50 200 Qua siamo troppo distanti Ma soprattutto Non avendo fatto lo Shimano Cioè non avendo oscillato Fra questi due EMA Fa si che l'incrocio Sia altamente improbabile Ok Nel caso in cui invece Adesso dovesse oscillare Nello Shimano La rottura sopra Dopo si Dopo giochiamo sull'incrocio Ma Avete sentito I Fufaguru Come si citavano Eravamo in Viagra E parlavano di Golden Cross Ragazzi Perché per loro Quando fai un minimo Dopo va to the moon A un milione Questo è quello che vi dicono I Fufaguru Pazzesco E BNB Daily Quindi niente Incrocio Avvenuto Quindi attenzione All'anti-incrocio Però comunque Si potrebbe andare a testare Non è male per il rimbalzo Che ha il livello Molto interessante Questo che cavolo ci fa qua Vabbè E Andiamo negli altri Cro Quindi bene o male Abbiamo questa cosa Che sono crollati Un po' tutti i grandi Peccato Ah questo era FTT Che aveva fatto Una bellissima conformazione Bud È andato a sporcare Guardate L'ha sporcato Ha rotto il livello Dopo un secondo Che ha rotto il livello E era tornato giù Quindi mi raccomando Stop loss Un secondo proprio E quindi Se qua avevate L'ingresso Alla rottura Del bud Praticamente Appena rotto Il vero livello trigger Che era il bud Quello più grande Non avendo un'accelerazione È andato a vendere Perché avete visto Dopo è un segnale Fantastico Per andare short Questo lo possiamo cancellare Quindi i livelli Ovviamente Vanno sempre testati E non funzionano Al 100% L'importante è che Quando funzionano bene Incassiamo Quando non fanno L'accelerazione I punti trigger Significa che Dobbiamo uscire Ok Stop loss Fondamentale Non seguite Carolina di FTT Dove lo stop loss Diceva che era Completamente inutile Questo era Sol Freccina Ha indicato Il suo bel ribasso Che ha fatto E adesso Addirittura ha fatto Chiusura cadera Già sotto l'eva 60 ETC Siamo già lì Cerchiamo qualche conformazione Ho aggiunto anche Delle crypto nuove Lazio Ha fatto la sua bella rottura La rottura l'ha fatta Ha fatto la sua bella accelerazione Se non vi siete accontentati Di un più 7% Poi vi siete beccati Tutto la discesa Vedete Stop loss Fondamentale Anche Santos Santos Ho puntato tantissimo Su Santos Chiusura candela Sopra l'eva 60 Bellissimo Guardate che movimento Che ha fatto Ha fatto Un più 27% Ho visto in tanti Nella family Che l'hanno fatto E non vi siete accontentati Tac Siamo tornati già Di nuovo sotto Ok Quindi Comando Accontentatevi Paris Saint Germain Ho indicato Ha fatto il doppio livello Anche qua Bellissimo Tanto noi Ragazzi Conformazione Alla volta 11% Questo rimane in piedi Questo rimane ancora in piedi Quindi Paris Saint Germain Ci siamo ancora Però Cerchiamo conformazioni Conformazioni Sì ti rimane Ok Sì ti rimane Rimane Io metterei Sposterai il livello qua Ha testato 200 di 3 Ma sta rimanendo Sta galleggiando Dopo aver testato la 10 Quindi comunque abbiamo Un altro livello trigger 495 Anche AMC Anche AMC Spostiamola più in alto Rimane interessante Juve La prossima volta Andiamo a sistemarle Adesso poi Quando sarò Nella casa nuova Dovrei avere Un po' più tempo Per tornare a fare Almeno due Video di analisi tecnica Ah vi ricordo Lunedì a casa Bull Praticamente Faccio Oltre a rispondere A domande Analisi tecnica Ma voglio iniziare Ho già iniziato La settimana scorsa A fare anche Del mercato azionario E forex Ok Quindi così diventa Molto interessante Quindi seguitelo Quindi voi che seguite qua Che siete in tantissimi Ricordatevi lunedì Casa Bull Live alle ore 19 Sono riuscite Comunque rimane registrato Per due settimane lì E dopo va Su Rumble Dai Andiamo avanti Fin quando non troviamo La conformazione Ah Questo è interessante Molto interessante Perché questo era USTC Che ve l'ho segnalato L'altra volta E ha fatto il suo Mega to the moon Che ha già fatto Questo mega To the moon E niente È andato dritto Per dritto Addirittura A lema 60 Ieri con No ieri l'altro Addirittura Sul lema 60 Pazzesco Tutte candele rosse Come facciamo a capire Quando è rimbalzo Basta cambiare Time frame E trovare una conformazione Questa è una conformazione Bellissima di rottura E qua capiamo Qual è lema In cui si ferma E con cui può fare Un rimbalzo Quindi bellissimo Uno Due Tre Quarto tocco Addirittura Comunque Di tocco più preciso Un terzo tocco Questi sono fantastici Quindi da lì capiamo Non abbiamo avuto Altre conformazioni Per andare a fare long Quindi lì abbiamo capito Dove era il livello Nel daily Vediamo Ecco il livello Era sopra Lema 60 E così capiamo Quando Troviamo il supporto Ok Questa è la Bull Family Ci muoviamo Per conformazioni Ok Quando ci sono Queste laterizzazioni Conformazioni Rompendo E andiamo a vedere Se li abbiamo sgamati Quando rompe Deve accelerare Se non accelera Dobbiamo uscire Ok Benvenuti A tutti i nuovi Da Bull Family E questa è la mentalità Che abbiamo noi E gold Niente Conformazioni Che mi piacciono Non ne sto vedendo Questo Gala Ottimo short Ottimo short Proprio sulla 60 Quindi Attenzione A questo short Send Anche qua Abbiamo un ottimo livello Short C'è chi è su Bybit FG short FTM Adunque ti ho visto Poi dopo Si fa presto Poi A scendere Si fa presto Ah Shiba Vediamo Shiba Shiba Bellissima Rottura Anche qua Vedete Che bella Che è l'analisi tecnica Quanto era questo Questo rialzo Di Shiba Addirittura Addirittura A 21% Abbiamo già rimangiato Tutto Ax XS Questo livello Rimane fantastico Ma siamo distanti Index Ah Dodge Attenzione Perché A time frame Ce lo sto vedendo Questo tocco Guardate Time frame 30 minuti La bellezza Questa Si potrebbe preparare Per un bel rimbalzo Ok Bellissimo Sarebbe un terzo tocco Quindi Dodge Time frame 30 minuti Potrebbe essere pronto Per un rimbalzo Devo andare a rompere Levo a 60 Ad Kp3r Niente Tutto schifo Senza conformazioni Nessuna conformazione Dopo andiamo a vedere Top in classifica Se troviamo qualcosa Fill Mob Sta tenendo Ah ecco Questo Questo l'ho aggiunto LRC Molto interessante Perché E' andato a rompere Quindi Quando ha rotto la 223 Ha fatto la sua bella accelerazione Qua ha tenuto benissimo La 223 Guardate la precisione Poi ha fatto Questo crollo Con quello che ha fatto Bitcoin Ha seguito Quindi qua ha scaricato tutti Ma il giorno dopo Ieri E' tornato subito su Quindi questo è molto bullish Quindi farei attenzione Farò l'altro Time frame 30 minuti Dovremmo avere anche Una conformazione Si Guardate che bella Laterizzazione Quindi qua Tenetelo d'occhio Massimi di oggi Già interessanti Quindi la rottura di 41 Questo è interessante Mettiamolo Mettiamo il bastone Tenetelo d'occhio Perché qua siamo Contro trend Ok Abbiamo un daily Interessante a favore Gas Che l'altro giorno E' esploso Ha fatto Pazzesco Guardate che Bella La bellezza Di questo terzo tocco Poi è andato a fare Addirittura il più 171% Ed è tornato Precisamente Sull'EMA10 Ok Però guardate A time frame Dov'è 30 minuti Si sta preparando Ok L'EMA10 Sta tenendo perfettamente Ha già fatto una finta Quindi attenzione Che qua siamo arrivati Proprio Ai livelli Potrebbero essere pronti Per un bel rimbalzo Ok Quindi già Livello Bud Time frame 30 minuti Potremmo avere un'accelerazione Ok Attenzione Quindi questo è il gas Che ho aggiunto Ah poi Questa è la nuova matricola Che è andata benissimo È stata una bellissima Nuova Ecco Guardate qua La conformazione Time frame 30 minuti Fin quando poteva scendere Guardate Rotola 60 Grandissima accelerazione Qua stiamo parlando Di percentuali Importanti Quindi prendiamo il livello Trigger È andata a fare addirittura Un più 22% Pazzesco Questa time frame 30 minuti Vedete Quindi andiamo a capire Quanto può scendere Il rimbalzo Lo becchiamo Con un time frame Più basso Time frame 30 minuti Ottimo Che andiamo a vedere Appunto Un minimo di lateralizzazione Poi rottura Dell'ema Esplosione Ok Questo è quello Che ci aspettiamo Altre cose Contro Tendenza Non sto vedendo Sto vedendo Però un Santos Aspetta che non ho visto Santos Quando ho guardato Il daily A time frame 30 minuti A daily È stato veramente Schiaffeggiatissimo Però a time frame 30 minuti Abbiamo La possibilità Sì Quella 30 minuti Di andare a rompere Andiamo a 60 Abbiamo un bellissimo livello Che fra l'altro Sono proprio i massimi Di oggi Tenetelo d'occhio Se dovesse fare Una lateralizzazione Sotto qua Quindi farebbe Un terzo tocco Possiamo anticipare Poi il livello trigger Vediamo Andiamo a vedere Il Nasdaq Se no qua Facciamo troppo tardi Allora il mostro Rimane qua Ad aspettare Abbiamo finito Il Viagra Viagra con l'EMA10 Che comandava Abbiamo subito La 200 lì Vediamo se ne ha fatto Chiusura comunque sotto Sono tre candele rosse Di seguito Andiamo a vedere L'EMA200 Che dovrebbe fare Un minimo di resistenza Ma il vero Supporto È l'EMA50 Ok Quindi Abbiamo spazio Ovviamente Sarebbe Bullish Il fatto che Tornasse sopra Chiudesse sopra All'EMA10 Ok Quindi se torna Chiudere sopra L'EMA10 Potremmo aspettarci Poi Questo rialzo Ok Andare addirittura Andare a fare nuovi massimi Però vi ho spiegato Economia E guerra Ci danno che Dovremmo andare È più probabile Che andiamo verso L'EMA60 Andiamo a vedere Standard & Poor's Chiuso sempre sotto L'EMA10 La Germania Invece avete visto Molto più debole Rispetto all'Italia Perché sono uscito fuori Dei dati Di vendite Negativissime Quindi È la Germania Che sapete O forse no Che era molto legata Alla Russia Per quanto riguarda L'economia E l'energia E adesso È quello Diciamo Che rischia di essere Uno dei peggiori Europa Ovviamente C'è l'Inghilterra Che è il number one Come peggiore in Europa Ma appunto Avendo voluto fare Il Brexit Non lo calcoliamo La Germania Invece rischia Di prendere schiaffoni È venuto fuori Con dei dati terribili Ok Seguitemi su Telegram Perché Vi ho mandato i dati E quindi Ha già rotto l'EMA10 Con ieri Ha rotto l'EMA10 E quindi qua Andiamo a cancellare Questi due Che qua è bellissimo La rottura Ma stiamo tornando sotto Stiamo tornando sotto Sotto la rottura Io vorrei cancellare questo Ecco Sotto la rottura Di breakout Sarebbe molto negativo Ok È già negativo l'EMA10 Ma attenzione A chiudere sotto Questo livello di breakout Perché dopo abbiamo L'EMA50 E questo è un Viagra Piazza Fari invece È molto più potente Ok Abbiamo appena scherzato Con l'EMA10 Però vi ho spiegato Perché abbiamo i bancari Che finché Stanno tirando fuori Q1 Con degli utili Pazzeschi Dovuti appunto A chi paga il mutuo Sta regalando utili Difatti Lo Stato italiano Stanno decidendo Come hanno fatto Con il petrolio Con l'aumento del petrolio Hanno detto Bene Prendiamoci Una percentuale Dei vostri utili Quindi con Eni Ha preso Diciamo dei soldi Vuole Sta ragionando Di fare la stessa cosa Con le banche Quindi chi ha fatto Tanti utili Perché i tassi sono aumentati Li prendiamo noi Quei soldi Un po' di quei soldi Lì Quindi vedremo Questa sarebbe ovviamente Una notizia negativa Nel caso dovessero farlo Per le banche Però effettivamente Insomma Niente avete visto Piazza Fari Superstar Ma perché abbiamo i bancari Che contano tanto Negli indici Ok In Germania Contano meno E soprattutto i dati In Germania Stanno uscendo fuori Molto negativi Questa è la Russia Che sta andando Verso la chiusura Della tazza Vi ricordate La tazza col manico Col manico Che ha fatto Un super manicone Ok Praticamente una padella Vediamo se va a chiudere La padella Questo è L'India Niente Allora Euro Siamo scesi Siamo scesi Siamo a 1,7 Quindi avete visto Chiusura sotto Lema 10 La fine accelerata Siamo a Lema 50 Sembra che voglio Chiudere addirittura Anche sotto Lema 50 Abbiamo un bad Short Quindi Stesse conformazione Ribaltate Funziona Questo è un bad short Chiusura Candela sotto Due candele di riposo Vedete Rischiamo Quindi attenzione Bellissimo livello Per andare short Euro Sterlina Sotto Lema 10 Sotto livello di rottura Quindi no good Aspetta Quanta era l'euro Siamo a 1 Sotto 1,7 Ottimo Ottimo Io sapete Voglio l'1 a 1 Euro Pound Niente Ottimo Questa candela Appunto Di finta Sulla 10 Quindi qua Rischiamo di andare Bello Andare a fare I massimi Rischiamo Con qua Abbiamo scaricato Gli scelte Ci abbiamo Testato Lema 10 Abbiamo Le due Ma più grosse Sotto Qua rischiamo Di andare a fare I massimi Euro Dollar Australiano Niente di che Qua abbiamo Rotto il livello Abbiamo fatto L'accelerazione Ma poi dopo Abbiamo chiuso sotto E adesso Siamo tornati negativi Quindi accelerazione L'ha fatto Livello trigger C'è stato E poi tornato sotto Sapete che dopo Bisogna sparire E inizia L'esatto opposto Quindi qua Adesso Stiamo lavorando Chiusura Candela Sotto Andiamo a fare Andiamo verso i minimi Tesa San Paolo Quindi sta Scricchiolando Però Continua a comandare Lema 5 Attenzione La chiusura sotto Unicredit To the moon Fra l'altro Guardate che bellissimo Bud Bellissimo Bud Questo è fantastico Ok vi saluto A puntata di Casa Bull Stiamo lavorando Su questo segnale Nuovo Un livello Bud Con lema 5 Che comanda E almeno due candeline Qua addirittura 4 Quindi un Bud To the moon Con lema 5 Che comanda Ragazzi Spettacolare Qua ha fatto Una bellissima candela Del 4% Attenzione però Perché se dovessimo Chiudere sotto Il livello Bud Diventa Ok Anzi Scriviamolo Chiusura sotto Diventa Molto Molto shortish Abbiamo perso Fine ecobank Meno 5 L'abbiamo perso Guardate che bellissimo Bud di stila Spettacolare Come prima 5 4 candela Direttore Quindi un Bud To the moon Ema 5 Che comanda Un altro qua 68% Stessa cosa Attenzione Che qua Chiusura sotto No good Saip To the moon Fino a dove Fino all'EMA 200 Vedete come funzionano bene Le nostre EMA Adesso sto facendo Candelline Vediamo Se fa candelline Attenzione alla rottura Dell'EMA 200 Ok Perché qua dopo Insomma Continuiamo a salire Monte dei Paschi Fatto sul bel imbalzo Ieri è riposato Vediamo Se ti riuscirà a tenere All'EMA 60 Telecom Italian Si capisce Che cosa vuole fare Comunque EMA 5 Che comanda Roll tool dell'EMA 5 Effettivamente potrebbe essere Negativo Conformazioni Qua ce l'abbiamo Qua abbiamo una bella Conformazione Che andiamo verso Un terzo tocco Chi è questo qua STM STM Molto bello Lo scrivo STM Così Metto l'alert In macchina Qua sarebbe Un terzo tocco Però Abbiamo un Viagra Lunghissimo Quindi Solito discorso Anzi qua abbiamo Così Un doppio livello Quindi l'EMA 10 Chiusura sotto L'EMA 10 Invece Accelerazione Qua abbiamo Una Viagra Spettacolare Molto preciso Proprio per questo Che l'EMA 10 Deve tenere IVG Ho aggiunto Iveco Ieri avete visto Ci ho lavorato Mamma mia Che conformazione Noi lavoriamo Conformazione Per conformazione Guardate che bellissima Rottura E' uscito fuori il dato Ok Il giorno prima Di un dato Con una conformazione Del genere Effettivamente Uno ci può fare Il pensierino Di entrarci Dati super Iveco Sta facendo Veramente bene Quindi l'ho aggiunto Adesso lo seguiremo Fra l'altro C'è stata la quotazione 11 E attenzione Perché sono gli All time I Ok Quindi attenzione Perché veramente Sta facendo E' uscito fuori Con dei dati Molto interessanti Grande Iveco Io Tifo Iveco Molto good E Questo Cos'è Cancelliamo tutto Ah Ferrari Oh Ferrari Stiamo Per distruggere L'EMA 10 Quindi attenzione Per adesso Se l'ho ritestato Ma qua Attenzione Al Viagra Bellissimo livello Di Tenaris Bello Questo Ve lo voglio Segnare Me lo scrivo Così quando ci va Questo è molto Un livello trigger Che è già la terza volta Che va su quel livello lì Andiamo a cercare Qualche conformazione Poi seguite Casa Bull Che poi Andiamo a parlare meglio Ecco qua L'ho già indicato Questo cos'è Moncler Ecco abbiamo perso Moncler Indicato benissimo Chiusura Candela sotto Bad short E adesso si Ottimo LDO Oh ha rotto il livello Vediamo se torna dentro E nel Ecco Bellissimo livello L Per andare short Adesso ha chiuso La candela sopra Però ha fatto un po' Una finta Vediamo se torna dentro Assume conformazione Assume conformazione Che era questo OVS Ah si Guardate che bello Che bellezza Quando vedete Bellezza così ragazzi Oh qua abbiamo Uno short Molto bello Questo short qua Spostiamo Molto bello Ema 10 In Viagra Chiusura qua Attenzione Che Ema 50 Juve Interessante Juve Molto interessante Aspetta Torniamo indietro Ok Molto interessante Perché abbiamo un livello Adesso ce lo potrò fare Eccolo qua Ha fatto la finta Chiusura sopra Lema Eeeh 50 Chiusura sopra Di nuovo Sarebbe molto interessante Anzi qua me lo voglio scrivere Juve Juve Quindi Basta andare Ai massimi di oggi Cioè di ieri Questo massimo qua 31 Chiusura sopra Potremmo avere Accelerazione Fino a 0.33 Interessante Basta Ho bisogno di dire Tesla Questa è Tiscali Niente Non lo vuol sapere Di arrivare sul livello Trigger Apple Oh Torniamo Siamo al Nasdaq Quindi Apple A testare Lema 10 In Viagra Attenzione Ok Che se perdiamo Apple Sappiamo che dopo Perdiamo gli indici Siamo ad un punto Cruciale Quindi si Supporto Potrebbe andare sui massimi Ma appunto Ecco fatto che io credo poco In questi rialzi Io farei attenzione A chiusura sotto Tesla Su bel Meno 5 Di ieri In realtà non ha fatto niente Ha rotto semplicemente Il Viagra Addirittura Ema 5 Perfezione Ok Quindi io comunque Farei attenzione Anche lema 10 Magari Dovesse andarlo a rimbalzare Perché per adesso È fortissimo È fortissimo Ford Come vedremo Invece sta pagando Lo scotto Lo scotto Degli abbassamenti Ai prezzi Tesla Che è uscito con dei dati Bruttissimi Ford Quindi Attenzione Baba Comunque Su Tesla Io farei Se dovesse andare a testare Zona 190 Ok Quindi lema 10 Io comunque farei attenzione Per un rimbalzo Ok Perché appunto Comanda Vabbè è vero Che comanda lema 5 Poi dopo difficilmente Tiene lema 10 Però insomma Sarebbero tre candele Di seguito Magari in apertura Va dritto per dritto Sulla 10 Potremmo beccarci Un rimbalzo Ok Vedremo Baba Baba sul supportone Ancora presto Per lo short BBB Sempre Nuovi minimi Avete visto Io amo Operare su BBB Qua si sta avvicinando Poi dei livelli Cioè praticamente Questo dovrebbe chiudere Come società Ok Quindi Capendo questo Ogni Conformazione short È ottimo Su Fineco Puoi andare short Su BBB Quindi insomma E l'importante Aspettare la conformazione Perché andare contro trend Avete visto Fa presto Fare candellone Al contrario Questo ha già fatto Che cos'è Questo qua Amazon Anche qua Attenzione Adesso Questo l'ha fatto Attenzione A chiusura Sotto leva 60 E 50 Google Ho inserito Google Che Hasba Ha presentato Il suo concorrente Di chat GBT Quando ha fatto La presentazione Si è impallato Il sistema Ed è correlato Meno 7 Meno 5 Ragazzi È Distruzione Perché Chat GBT Se Google Non uscirà Tirare fuori Qualcosa Che possa essere All'altezza Di chat GBT Ragazzi Sono cavoli amari E Microsoft Sembra che ne possa avere Con il suo Bing La migliore Quindi Attenzione Google Che Con il suo motore Di ricerca Fa su tutti i suoi soldi La maggioranza Dei suoi soldi Quindi Attenzione Schiaffone Commerciale Tecnologico A Google Molto interessante Seguire queste cose Ok Space Space Mamma mia Space 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 Ha perso Tanti Avete visto Ci voleva un attimo Adesso sul supporto C'è una conformazione Snap Cancelliamo tutto Cerchiamo conformazioni Ah Meta Che aveva fatto Il mega gap up Uh Siamo sulla 10 Attenzione Quindi Per un rimbalzo Ma soprattutto Quindi Attenzione Rimbalzo Ma chiusura sotto Quindi magari Lunedì Rimbalza E dovesse Tornare sotto Meta Che è nata Un po' troppo To the moon Dobbiamo essere pronti Dopo per scendere Microsoft Vediamo Se ce la farà A distruggere Google Rivian Che va verso Default Perde soldi Su soldi E con la mossa Di Tesla Attenzione Chiusura Candela Sotto Nema 10 Lucid Qua un'altra Che rischia di fallire Purtroppo Che le macchine Sia Rivian Bellissima Su pick up Anche Lucid Fa delle macchine Pazzesche Però ragazzi Purtroppo Se Non vendono abbastanza E spendi troppo Per fare le macchine Purtroppo È un casino Xpev Stiamo perdendo Anche Xpev Attenzione Livello Molto interessante Short Mettiamolo Il secondo livello Short Attenzione Nio Mamma mia Ci stiamo avvicinando Ci stiamo avvicinando Ai minimi Attenzione Tesla Con quella cosa lì Rischia di distruggere La concorrenza Rimane solo BYD Che è quello Che è l'unico problema Che ha Tesla È BYD Che sta facendo Veramente delle macchine Pazzesche A dei prezzi Imbattibili Nicola Ecco Ford Ford Mi sa che Si va a prendere il caffè C'è ancora tanto spazio Però Si sono fuori Con dei dati negativi Molto negativi AMC Spot Contro trend Assolutamente Contro trend Molto forte Ma non abbiamo Conformazione Riot Eh sì Eh sì Questa chiusura Non ci voleva Pelaton Netflix Abbiamo perso Ottimo Questo short Viagra Chiusura Candela sotto Micro strategy Con bitcoin che scende Scende anche Micro strategy Moderna Ecco Moderna 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 Ecco Ma anche un bel livello Indicato Sta facendo la finta Però Moderna Appunto Il covid Sembra che non sia Più un problema Quindi Questi signori Si devono inventare Qualcos'altro Hanno avuto Già Una bella Ascesa Ok E quindi Vediamo Se c'è Una conformazione Che vi possa C'era Fra l'altro Però questa candela In realtà Va contro trend Comunque Teniamolo d'occhio Che io questo Ci voglio mettere Un bel bollino rosso E speriamo Che vada A zero Vuol dire Che non abbiamo Bisogno più Di Moderna Zero Proprio Mi piacerebbe Vedere Moderna E Hood Quindi dai Cerchiamo Conformazioni Sennò qua Il video Dura troppo Walt Disney Bellissimo Questo short Ragazzi Bellissimo short E siamo Sulla 200 Questo Questo mi piace Questo mi piace Viagra Chiusura sotto Lema 10 Qua Rischiamo Di perderlo Avete visto Sciuto fuori Con dei brutti dati Rischiamo Di perderlo Coin Perché i dati Contano ragazzi Quindi se noi sappiamo Che la gente Ha perso Il potere D'acquisto Significa Che prima o poi A forza Di mangiare Risparmi A forza Di Non poter Più fare Debiti Su debiti Come fanno In America Prima o poi Smetteranno Di consumare E i dati Societari Saranno terribili E crollerà Sto mercato Quindi I fondamentali Sono importanti Per quello Qua possiamo Cancellare Tutto Beyond Meat Siamo mangiato tutto Rumble Mannaggia Pronti Per il terzo tocco Vediamo Se ci va Fra l'altro Ha fatto già Una rottura Ma non ha accelerato Malissimo Quanto era Questo Quanto era Questo rialzo 4% Poco Poco Comunque Rimane Adesso abbiamo Due livelli Adesso Due livelli Importanti Uno Long Uno Short Vedremo Dove va Sperando Faccio una Conformazione La conformazione Per andare Long C'è La conformazione Per andare Short Un po' Meno Nel senso Che Magari Un secondo Tocco Rimbalzo Terzo Tocco Allora Si E poi Fra l'altro Rime Minimi Quindi Non sarebbe Male Speriamo Di no Però Fin Time A 10 Bellissimo Questo Invece È bello Per andare A fare I nuovi Massimi Teniamolo D'occhio FDX Attenzione Airbnb Sperate che io non ho mai Prenotato Airbnb Mai Airbnb Mai Prenotato Io uso un sacco Booking Aia Aia Stiamo perdendo Booking Ovviamente Con la crisi La gente va meno In vacanza No E quindi Io ero stupito Di questo Mega rialzo Quindi Assolutamente Questo era Sì Era un Bad Short Già strappato Zoom Petroglio Sta tornando su Speriamo che non rompa questo livello Abbiamo un bellissimo livello short Argento Abbiamo perso Gas Attenzione al Viagra Perché qua Come appena fa chiusura Candela sopra Ragazzi Qua Non mi sa che lo devo disegnare Purtroppo Rischiamo Un bel rimbalzo Addirittura Fino all'EMA 50 Gas Caffè Gold Ah Gold Caspita Eh sì Eh sì Eh sì Sì Ve l'ho detto L'EMA 10 Attenzione Ha chiuso sotto L'EMA 10 Grande accelerazione Porca miseria C'è andato proprio dritto Per dritto Attenzione Perché adesso Speriamo che rimbalzi un attimo Vado anche a romperla 10 Più mi diverono short Importante Mi piacerebbe che rompesse La 10 E poi tornasse giù Viagra ragazzi Quando fa il viagra Poi attenzione Guardate che candela Poi cos'è Direi Basta Dai facciamo velocemente Quest'ultimi piazzafari Dai ci abbiamo Dai due minuti Allora Ho fatto un po' una selezione Perché qua abbiamo Dei livelli interessanti Quindi abbiamo Un bud Poi ERP Bellissimo Questo è Già messo il segnale Attenzione Qua abbiamo Candeline di rottura Dell'EMA10 Questa è E-Price Lo devo scrivere E-Price Che voglio inserire Il livello Importante Qua abbiamo Sì dai Sì Verso il terzo tocco Anche qua Candeline Piace tantissimo Candeline Questo cos'è? A-G-A A-G-A Very good Questo chi è? Aedes Che cavolo sta facendo Aedes Un martello Nel daily Ragazzi Ragazzi Aedes Ma questo è spettacolare A-A-ED Aedes Questo è Campo immobiliare Non si capisce Comunque Questo martello Nel daily Ragazzi Attenzione Lunedì Assolutamente Attenzione Questo veramente Spettacolo Rebuild Ames Anche qua Abbiamo l'EMA5 Che comanda Eh carini questi Selezionati Molto carini Molto carini Mettiamo un terzo tocco Eni Attenzione Eni Guardate che roba Stava facendo Candeline Ma 5 a precisione Quindi attenzione Io farei attenzione Già A 2,90 Scriviamo Eni Spettacolo Piazza Fari To the Moon MTV Avete visto Ho fatto questa operazione qua Ho venduto Ed è andato To the Moon Pazzesco Comunque adesso Non abbiamo la conformazione C'è stato prima XI Questa è l'intelligenza artificiale Piazza Fari Ce l'abbiamo Questo è nel linguaggio Comunque ce l'abbiamo Expert AI Quindi To the Moon Attenzione Questo lo dobbiamo assolutamente seguire Bene Ragazzi Vi ricordo Per avere tutti i link Della Bull Family Andate su Youtube Oppure i post che faccio Su Telegram Cliccate qua E avete tutti i link Della Bull Family Usate solo questi link qua Perché è pieno di scammatori Che hanno dei link Fasulli Solo qua Avete tutti i link ufficiali Telegram Discord I webinar Il libro Le playlist gratuite Bullbot Tutto 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 Volete Telegram Su Bullbot Qualsiasi cosa Trovate tutto qua Mille like Ci vediamo lunedì Casa Bull Ciao Ciao